I biellesi hanno sempre dimostrato di fronte all'emergenza di ogni natura di avere uno spirito solidale veramente importante. In questa fase però la raccolta di beni materiali, di indumenti, generi alimentari è efficace, è importante, è utile oppure no? Il problema è che in questa fase la raccolta poi si rileva di per sé quasi impossibile, non tanto per raccogliere quanto per consegnare. Cioè in questo momento non ci sono percorsi garantiti per poter entrare in Ucraina, motivo per il quale appunto come sappiamo in questi giorni ci sono discussioni tra le due delegazioni che stanno da un canto facendo il conflitto e da un canto subendo il conflitto. Quindi c'è il forte rischio che i beni che vengano raccolti arrivano sul confine e permangono sul confine o tornano indietro. Quindi in questo momento tutte le organizzazioni nazionali e internazionali stanno chiedendo al massimo agli stati di ragionare sull'accoglienza e di ragionare sui contributi economici non fini a se stessi ma verranno appunto, non so, mi viene in mente Caritas ha attivato questa procedura perché poi queste persone saranno anche ad aiutare economicamente parlando. Per quanto riguarda la raccolta appunto di indumenti o altro in questo momento io ci andrei abbastanza cauto. Come provincia con i comuni, con alcuni colleghi ci siamo sentiti, faremo la nostra parte come coordinamento. Naturalmente è la prefettura il punto di riferimento su questo territorio. Siamo tutti assolutamente a disposizione e il territorio ha sempre risposto alla grande. Mi aspetto che succederà anche di nuovo questa volta col senso d'umanità che contraddistingue gli italiani e i biellesi anche, però appunto sotto il punto di vista della raccolta di beni per trasferirli in Ucraina, in questo momento sappiamo che i confini per entrare sono inevitabilmente chiusi. Senta, le diatribe di ordine politico perché poi insomma in queste situazioni c'è anche chi fa questo, sono inutili? È veramente scontato dirlo. Sono tristi e quasi anche un po' becere. Credo che in questo momento qui chiunque di noi che appartenga ad un partito deve muoversi istituzionalmente sotto i punti di vista delle polemiche o del ho fatto di più io, hai fatto di meno tu, tu hai detto questo, tu hai detto questo, forse dovremmo dimostrare che con il silenzio superiamo alcune cose. Molte volte i politici dovrebbero restare in silenzio, se lo dimenticano spesso.